Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu, non aggiornata del campionato di Serie C2 Girone A, in campo ci sono il Real Stella e l'Atletico Sperlonga sulla sfera Catanese e Pardo, partiti, vinci Allargo per il sinistro, pericoloso da parte di Barbierato Pallone perciuffa, ne ho entrato, palla sul palo, De Parolis, pallone che arriva, anzi no da Haka Tonini esce, batti e ribatti, De Parolis, poi ancora Tonini su Haka Ottima la sua partita fino a questo momento, poi Breck da parte di Ciuffa che vede respinto il suo tiro Poi Chianese, piazza, palla fuori, non di molto Ora Pardo, Chianese, ancora lui, allarga Bragagnolo Destro, traversa, Pardo Pallone che arriva a Chianese e si salva con una grande parata schiappa Chianese avrebbe voluto una deviazione dello stesso Bragagnolo, così non è E allora pallone per Pardo e la palla in rete Vantaggio del Real Stella, ci ha pensato Cristian Pardo, 1-0 De Parolis Parte lui il tiro, la traversa, Tonini Spinge, tutta in piedi la panchina dell'Atletico, poi arriva il contropiede, il gol di Chianese, 2-0 Real Stella Pallone per Barbierato, poi Vinci va via ancora molto bene a sinistra, mette in mezzo, pallone dentro E arriva al 3-0, firmato Catanese Allarga Ciuffa Ciuffa, entra in area, ciuffa, pallone per lo stesso Cesari che però non concretizza Entra in mezzo, fermati in mezzo Gira ancora palla bene per Catanese, destro, palla fuori Tutto pronto, fischio dell'arbitro Pardo per il tiro di Catanese, respinto da schiappa Oltre ai tre gol, anche due traverse Intanto va via Bragagnolo, Bragagnolo si avvicina, palla in rete Si apre subito con un gol Ora Saccoccio vince il rimpallo, Saccoccio mette dentro Poggia a Barbierato Esce Vinci, pallone per lui, prova ad andare dentro Poi appoggia ancora Barbierato, scarica il sinistro, la deviazione rischiappa Palla però direttamente sul fondo Ciuffa, dentro per Siracusa, destro, palla sull'esterno della rete Pallone per l'inserimento di Altobello Altobello, sinistro di Altobello finisce alto Buona però l'iniziativa Trova a liberarsi, non ci riesce raddoppiato E allora Chianese sotto la traversa Un gran gol per il 5-1 del Real Stella Palla, Chianese Chianese si gira, ancora lui, palla sulla traversa Chianese, ancora lui, deviazione, palla in rete L'autogol di De Parolis Ma il tiro ancora di Chianese, grande protagonista di questa sfida De Parolis, prova ad 1-2 con Fraggione Fraggione il sinistro, Tonini respinge E poi grande parata Guantato da Barbierato Poi Bragagnolo Va via E scheggia la traversa Vinci Pallone per Barbierato Poi 1-2 E palla in rete Grande azione, grande gol di Barbierato Destro la deviazione Ma c'è Barbierato in protezione della porta E allora Ciuffa Prova ad andare via Ciuffa All'angolino Imprendibile 8-1 E bravo Schiappa Ancora però Real Non c'è tregua per la difesa dell'Atletico Siragusa Mette il nono sigillo De Parolis Appoggia ad Aca Spostazione Cardogna Stoppa poi per Aca Aca Pallone in rete Arriva la seconda marcatura per l'Atletico Firmata Aca Prova ad andare via Finisce il match La vittoria della capolista Real Stella 9-2 Sull'Atletico Sperlonga Che ha opposto le armi che ha potuto Grande formazione rimaneggiata Da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marcedo è tutto Un saluto dal Fabiani di Latina E appuntamento alla prossima sfida Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti